Nell'anniversario della strage di Via D'Amelio, un cuscino di fiori del comune è stato deposto dal vice sindaco Laura Lieto sulla lapide che ricorda i giudici Falcone e Borsellino in piazza Municipio. La cerimonia in memoria del magistrato Paolo Borsellino e degli agenti della scorta che persero la vita nel drammatico attentato di 31 anni fa e la testimonianza della lotta sempre viva contro la mafia ed ogni forma di criminalità organizzata nel ricordo di quanti hanno perso la vita nel cammino per l'affermazione della legalità. Oggi sono passati 21 anni dalla strage di Via D'Amelio e noi siamo qua a rappresentare la città e tutti quelli che ricordano Paolo Borsellino, la donna e gli uomini della sua scorta che morirono in quella giornata del 92. Questo è un giorno della memoria, un giorno della testimonianza ed è un giorno in cui noi dobbiamo raccogliereci e rivolgere un pensiero alle donne e agli uomini che hanno dedicato alla loro vita, alla libertà di questo paese, alla legalità di questo paese e siamo qua per ricordare un giudice, un uomo, una persona che ha pagato con la vita il lavoro che stava facendo.